Sono Graziella Menato Podestà e vi voglio portare a conoscere il mio ultimo lavoro, il volume Donna Tesina. È principalmente una raccolta di documenti, memorie, ricordi, schizzi, dipinti, stampe e fotografie, volti tutti a presentare al lettore la singolarità dell'abbigliamento degli abitanti di Tesino, delle donne in particolare, adottato fin dal 1600 nella quotidianità ed è venuto poi, dopo i primi decenni del 1900, motivo di folclore e rappresentanza del popolo tesino. Ho voluto assembrare un volume che racchiudesse, per quanto reperibile, i testi di autorevoli autori che nei secoli scorsi scrissero riguardo all'abbigliamento delle donne tesine. Ne cito alcuni Baldassare Pellizzaro, Carlo Gambillo, Santo Fietta Chioli, Oreste Ferrari, Mario Marchetto, Volto e Armando Pasqualini. Vi troviamo inoltre le più belle fotografie antiche che hanno ritratto grazie ai fisionomie. Oltre alle diverse stampe e ad alcuni dipinti, eseguiti da pittori famosi, quali fratelli Eugenio e Giulio Cesare Prati, ed alcuni artisti locali, oltre alle immagini variopinte delle donne tesine dei giorni nostri. Ne risulta un lavoro che non è unicamente la dettagliata descrizione dell'elegante abbigliamento delle donne di Tesino nel corso dei secoli scorsi, ma si rivela un quadro ben più esaustivo. Traspaiono tra le fitte pieghe del vestito tesino le storie della gente che costruì passo dopo passo una tipologia di commercio girovago forse tra i più singolari d'Europa, che arrivò ai confini inimmaginabili e condivise culture lontanissime. I gioielli, le stoffe e i dinastri, parti determinanti dell'abbigliamento femminile di Tesino, sono infatti il risultato di una raccolta che nel tempo giunse dall'Oltralpe, fortemente caratterizzata dell'influenza miteleuropea. Fu così che nel tempo si arricchì e si definì un abbigliamento alquanto singolare, completamente differente da quello adottato nei paesi vicini, e ciò si tramandò di madre in figlia. Il singolare abbigliamento tesino è il filo conduttore che porta il lettore attraverso epoche diverse, momenti di gioia quali le ricorrenze in matrimoni e dolorosi periodi quali la forzata profuganza del Regno d'Italia durante il primo conflitto mondiale. Riaffiorano così, scorrendo le pagine del libro, dalle immagini sbiadite di un tempo passato, le fiere donne tesine, forti e determinate, eleganti ed altere, differenze caratteriali queste che le hanno contraddistinte nei secoli dalle altre valli contigue, una particolarità di atteggiamenti ed usanze che ne ha rafforzato identità e bellezza. Ai giorni nostri è l'attività dell'attuale folklore della valle, egregiamente rappresentato dai gruppi folcloristici di Castello di Pieve, dalla banda folcloristica di Castello e dalla Sciuzza in compagnia di Tesino tra i Santi Eiligen, che mantiene viva la tradizione delle ballate e dell'abbigliamento tipico, con particolare riferimento a quello femminile tesino. Lascio ai tesini vicini e lontani il piacere, io lo spero, di sfogliare queste pagine dense di immagini e documenti, augurando loro di cogliere in qualche piccolo particolare, in uno sguardo, un atteggiamento, un ricordo che stimoli il risveglio di appartenenza e di orgoglio, un aggancio sentimentale ad una piccola valle di montagna e la sua gente schietta e caparbia. Chi fosse interessato all'acquisto del libro Donna Tesina può reperirlo presso le biblioteche di Castello Tesino e di Pieve Tesino, oppure contattando la sottoscritta in privato su Facebook. Grazie dell'attenzione e buona lettura. Grazie.